Ciao a tutti, partiamo dalla notizia di giornata, perché sono stati assegnati ad Asone Sky i diritti della Serie A dal 2024 al 2029 per 4,5 miliardi. Ci sono già tantissime interpretazioni su questo bando all'insegna della continuità, perché si procede con qualcosa che abbiamo già imparato a conoscere negli ultimi anni. Da quello che ho intuito, da quello che ho letto sull'ottimo pezzo pubblicato da Goal.com, Sky avrà in coesclusiva qualche partita in più di cartello. Infatti ha fatto un investimento più sostanzioso rispetto a quello del primo accordo, diciamo, parallelo al prodotto proposto da Asone. Si ipotizzava anche che ci potesse essere la creazione di un canale legato proprio direttamente alla Lega Serie A, ma credo che questo scenario sia stato proprio scongiurato da praticamente tutti i patron. E ci si è fatta poi anche considerando la presa di posizione del presidente del Napoli, Oriolo De Laurentiis, che avrebbe voluto cambiare e non li ha mandati a dire. Però probabilmente garantirsi per questo quinquennio subito determinati soldi certi ha fatto in modo che la Serie A optasse per questa soluzione. Quindi questo è dal 2024 al 2029 si va avanti con Dazon più Sky. E torniamo a ieri perché ho rivisto buona parte di Milan-Juventus 0-1. Le vittorie te le rivedi sempre volentieri, soprattutto se lo tieni contro un avversario come il Milan, con un rivale così tosto, perché poi credo che alla fine della fiera, quando noi parliamo del Milan, parliamo sempre di un competitor che rispettiamo. Devo anche dire che, parlando di Milan, subentra anche il ricordo più brutto da tifoso, perché Old Trafford 2003 è sempre qualcosa che resta qua. È sempre qualcosa che resta qua e non passa, però. Questo è. Allora, il match secondo me è stato interpretato bene dalla Juve, anche 11 contro 11. Poi è vero che Szczesny fa quel mega paratone su Giroud, ma al tempo stesso anche nello stesso primo tempo la Juventus ha qualche occasione. Quella di Kostic, quella di Rabiot, quella clamorosa dello stesso Ken nel finale del primo tempo, quando già però la Juventus era rimasta in superiorità numerica. Quindi, se il Milan ha creato un grossissimo pericolo disinnescato davvero dalla bravura dall'estremo difensore polacco, anche la Juve ha avuto le sue chance nel primo tempo. Nella ripresa si è sfruttato appieno l'errore. Di ciao. Qua, secondo me, si poteva fare meglio, decisamente meglio, perché segnalo Catelli, di viazione, se vogliamo decisiva, di Krunic, ed è proprio quel tipo di canovaccio che poi manda su tutte le furie Max Allegri, che pretendeva che i suoi ragazzi allargassero il campo, che non si andassero a intasare tra le linee, bensì lavorassero in ampiezza. Da lì via la giacca, via la cravatta e via lui, perché poi è uscito prima che l'arbitro decretasse il triplicio e fischio. Però devo dire la verità, a me è sembrata una Juventus, non spettacolare, ma siamo abituati al fatto che questa Juventus tendenzialmente non lo sia, ma la Juve è molto pratica, molto sul pezzo, perché poi quando ti presenti con determinate defezioni, difesa sperimentale, centrocampo secondato, i tuoi due attaccanti titolari non partono all'inizio perché non hanno tantissimi minuti, devi essere gruppo, devi essere squadra, e la Juventus lo è stata, squadra, è stato un gruppo unito, coeso, che in momenti di difficoltà, pur con le sue carenze, ha cercato di venirne a capo, penso al mestiere di gatti contro Leao, perché in tanti mi avete scritto però Leao là ha fatto quello che voleva, ma è anche normale che sia così, cioè se parliamo di Leao parliamo di uno che nel suo ruolo è tra i milioni al mondo, quindi bisogna anche considerare i punti di forza degli avversari, bisogna considerare anche la tua natura, quali possano essere i tuoi limiti, ma complessivamente, ribadisco, anche 11 contro 11, eccezione fatta per quell'episodio di Giroud, la Juve non concede praticamente niente, linee molto strette, è mancato anche un po' di coraggio in qualche ripartenza, questo sì, anche nella tua del match, credo che tra le poche note non liete ci sia stata la performance di Milik, molto ruffone, molto lento, cioè alla fine della fiera Ken andava al doppio della sua velocità e si sono capovolti i ruoli, perché inizialmente pensavo che Milik potesse agire a modi trequartista alle spalle di Ken, invece è stato lo stesso Ken, poi a superire anche ai limiti, all'interno della stessa trama di Milik, quindi da rivedere un po' la prestazione del centroavanti polacco, poco coraggio anche da parte di UEA, e io da Timothy, lo ribadisco, mi attendo anche che possa fare degli errori in fase difensiva, perché è sostanzialmente un attaccante che si sta specializzando sempre di più ad abbassare il raggio d'azione, però da uno come UEA pretendo che cerchi di saltare maggiormente l'uomo, uno contro uno e crossare, e a proposito dei cross, qua mi sono voluto ritagliare questa parentesi, perché ho visto i dati, e sono allucinanti, Kostic, otto cross tentati, nessuno è riuscito, otto cross tentati, nessuno è riuscito, ha beccato credo almeno sei volte Calabria, e due volte gli altri, ecco, qua bisogna migliorare, specialmente considerando come se tu lavori con i quinti, i quinti devono avere un ruolo determinante per creare i presupposti nelle palle aeree, Kostic, ribadisco, non dato che ora sto spettacolarizzando, dato vero, otto tentativi, nessun cross è riuscito, e anche lo stesso UEA ha faticato enormemente, ha beccato più volte Florenzi, qua bisogna migliorare, qua bisogna migliorare con la precisione, a maggior ragione quando giochi con due prime punte, praticamente, poi è chiaro che Milik può giocare anche la seconda, anche lo stesso Ken, che anche se vogliamo un esterno attacco alle volte, ma lì bisogna essere più incisivi, nella maniera più assoluta, anche perché mi sembrava che ieri la Juventus potesse riempire bene l'area, Rabiot, lo stesso Meccanik, un giocatore che si sa buttare primo o secondo palo, specialmente nel gioco aereo, ecco, quando ho letto questo dato di Kostic, l'ho trovato un dato davvero eclatante, in negativo, però alla fine della fiera, serviva che si tornasse a Torino con maggiore autostima, e soprattutto con i tre punti, perché banalmente, al di là dell'estetica, al di là dell'allegri sì, dell'allegri no, del gioco, del non gioco e tutto, ciò che conta è stare lì, stare lì, due punti dall'Inter, un punto dal Milan, in attesa di vedere ciò che combinerà la Fiorentina questa sera, però la Juventus è lì, la Juventus è lì, e ora un trittico dove si può far decisamente bene, Verona, Fiorentina, Cagliari, prima di un'altra noiosissima sosta, l'ultima pre-natalizia, e queste tre partite, in questo trittico, bisogna cercare di accelerare, e fare l'unpline, cioè cercare davvero di fare la voce grossa, perché a quel punto, sì, secondo me a livello mentale, si alzerebbe ulteriormente l'asticella, però i punti non vanno fatti a chiacchiere, perché sennò diventi molto vulnerabile, basta vedere il primo tempo di Juventus-Bologna, soprattutto quanto è accaduto. A Reggio Emilia, pioggia nei commenti, un caro abbraccio.